Eccomi qui. Dove sono? Qui. Permetto che da quando pubblicai questo video che non registro niente mi sono sempre fatto vedere in live, mi esprimevo dicendo cose che io pensavo nel momento senza scrivermi niente, e stessa cosa anche per questo video, quindi se per caso troverete dei concetti che non sono stati espressi nel migliore di modi è per questo motivo. Il secondo disclaimer è che questo video non è indirizzato ad essere un ritorno totale, perché prima di tutto risulterei un pagliaccio, dopo le parole che io dissi. Non serve che voi vi aspettiate un ritorno alla parte mia su YouTube, perché tanto non ci sarà. Poi su questo noi ci arriveremo più avanti in questo video. Intanto voglio spiegarvi dicendo che cosa è successo in quest'ultimo anno. In quest'ultimo anno innanzitutto sono riuscito a finire le scuole superiori, mi sono diplomato, però ho continuato ad entrare a prendere la mia dieta, ho continuato sempre di più a allenarmi giorno dopo giorno, ovviamente senza contare i giorni di scuola perché io dovevo studiare, dovevo essere super preparato, però adesso che è finita mi sento libero, non dico indipendente, scappato di casa o robe simili, però libero tanto quanto per alzarmi la mattina, volendo anche a luna del pomeriggio, perché non è detto che io vado a dormire sempre o alle 23 o a mezz'ante precisa, può capitare che io vado a dormire addirittura alle 4, ma comunque sia, mi sveglio, mi alleno e penso in maniera positiva, tranne per ieri. E questo qua sarà il punto focale di questo video, che vorrei approfondire di più. Come al mio solito stavo continuando la mia maratona annuale con i dischi che io mi sono scaricato sul mio mp3, e la canzone era di Tupac, che si chiamava I Wonder If The Heaven Gotta Get, o una roba del genere, e mi stava partendo la nostalgia, non tanto per il fatto che è sempre bello risentire certi dischi che tu già in passato avevi sentito, però con la mentalità di adesso, ma mi è apparso il pensiero del, se io non avessi quittato YouTube, questa traccia come l'avrei recensita, o tutto il disco d'ora presente la traccia, come l'avrei recensito? Infatti sono stato tutta la notte a pensare, è il caso di tornare? E se io tornassi, cambierebbe qualcosa? Mi spiego meglio, con tutti i canali che stanno emergendo, soprattutto di musica, perché io rimango sempre attivo sulle nuove leve di questo tipo di recensioni su YouTube, avrebbe senso la mia presenza, e soprattutto, riavrei lo stesso supporto che già avevo prima di quittare YouTube. No, ma perché io nel video stesso ho detto che non ci sarà mai un ritorno a parte mia su YouTube, e risulterei un pagliaccio nel rinfrangere questa promessa, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti questi pensieri per la testa per arrivare a una sola conclusione, del non tornare al 100%, però di provare. Vedere come me la posso prendere per questa prima settimana, e poi, se tutto andrà bene, magari potrò riprendere a caricare i video in maniera costante. E tra l'altro, stavo pensando di ricambiare nome, perché esiste in America già un canale che è il doppio più famoso di me, che si chiama World of Music, e quando tu cerchi World of Music non appare il mio canale, appare l'altro. Quindi, abitanti del mio mondo, ci vediamo a un prossimo appuntamento e ho anche una piccola idea su che cosa portare. Quindi Andrea Milani è tutto, e ciao!